Smart Building, approcci innovativi alla riqualificazione edilizia. Questo il titolo del workshop organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino in collaborazione con Action Group, svoltosi giovedì 5 giugno 2014 presso il Centro Congressi Torino Incontra. L'evento è accreditato dal Consiglio Nazionale degli Architetti per sei crediti formativi professionali a valere per il triennio 2014-2016. Un commento su questa avventura con Action Group, insomma tante le tappe, come stanno andando questi appuntamenti? Sicuramente siamo soddisfatti, sono 28 appuntamenti che vedranno la fine a dicembre di quest'anno, l'anno prossimo vogliamo farne altre tanti, se abbiamo le forze ne faremo ancora di più, sicuramente sensibilizzare tutti i progettisti è utile soprattutto per il nostro scopo di far conoscere questo nuovo sistema che dal 2008 ormai è diventato protagonista in tutte le situazioni da esterno come pavimentazione e noi ci crediamo tantissimo e vogliamo continuare in questa avventura. Gerosec crede fermamente in questi appuntamenti poiché il rapporto stretto con i tecnici progettisti dell'opera è molto importante, è fondamentale creare una simbiosi con i tecnici progettisti della committenza in un mondo, quello del consolidamento dei terreni che è ancora poco conosciuto e noi attraverso questi momenti portiamo in giro in questi eventi il nostro patrimonio, le nostre conoscenze in modo da poterlo condividere in un'esecuzione dell'opera che rispetti sempre la regola dell'arte. Il fatto di avere una platea di professionisti per noi è molto importante perché noi vendiamo dei prodotti di alta qualità che devono essere spiegati ai professionisti, non vendiamo caffè o prodotti di consumo, largo consumo a prodotti molto specifici e oggi gli architetti professionisti hanno bisogno di avere delle informazioni precise e puntuali su questi prodotti. Abbiamo avuto un'affluenza inaspettata al nostro desk, tant'è che il materiale pubblicitario che abbiamo preparato si è rivelato insufficiente, però abbiamo già provveduto. Sì, siamo molto soddisfatti, è una platea molto qualificata, evidentemente conoscono il prodotto di base e sono interessati a conoscere quali sono gli sviluppi di questa società che comunque, ripeto, opera su questo territorio da 60 anni. L'accordo è stato preso in collaborazione con HP con cui siamo fortemente legati perché i prodotti, soprattutto HP, sono molto presenti e sicuramente molto interessanti per gli studi tecnici è il motivo di presentare alcune novità che ci sono sul mercato e di rafforzare un pochettino la vicinanza nostra e del brand agli utenti finali cosa che negli ultimi anni si era un po' persa, allora la volontà di essere più vicini, in contatto più diretto.